Una buona notizia per la Saga e per la Regione Abruzzo che dopo le vicissitudini economiche e l'avvicendamento alla Presidenza oggi annuncia un accordo che da un lato offre un servizio fondamentale e indispensabile per la sicurezza e dall'altro un risparmio per le casse. Dal 15 giugno scorso è attivo il servizio di primo soccorso gestito direttamente dall'Asla di Pescara. È solo il secondo caso del genere in Italia che segue solo dopo pochi mesi all'esperienza fatta a Bologna e i risultati sono un miglioramento significativo della qualità del servizio, quindi da questo momento il nostro aeroporto può contare su un presidio per questa attività davvero prestigiosa e professionalmente ineccipibile e un dimezzamento dei costi. Siccome nel caso si tratta della Saga, una società a intera partecipazione pubblica questo significa un significativo contenimento della spesa pubblica. Una spesa ridotta della metà e forse anche di più si passa dai quasi 600 milioni di euro annui a una spesa poco maggiore ai 200 mila per un servizio attivo 18 ore nel presidio aeroportuale e attivo 24 ore complessivamente. Un grande traguardo. Non c'è soltanto un piano industriale che va verso una razionalizzazione e dunque una sua sostenibilità e si dà un forte contributo ma anche per il diritto alla salute vuol dire garantire sicurezza nel percorso della rete di emergenza e urgenza e programmare meglio la sanità nel futuro della regione. Il costo che si va a sostenere non soltanto è la metà di quello che si sosteneva ma soprattutto produce un'offerta nel ramo e nella rete della sicurezza e dell'emergenza e urgenza migliore del passato e questo è il punto. Uniamo un miglior costo anche a un miglior servizio del diritto alla salute.